In questo numero di AgriFood Magazine. Europa, produzione di gelato in calo nel 2023. Agricoltura sinonimo di riscatto con ripartiamo dalla nostra terra. I cambiamenti climatici dettano i tempi per la vendemmia 2024. Il benessere passa da una sana alimentazione. Nel 2023 l'Unione Europea ha prodotto 3,2 miliardi di litri di gelato con un calo dell'1,4% rispetto all'anno precedente. Lo rileva Eurostat, sottolineando che tra i paesi UE la Germania è stata il principale produttore con 612 milioni di litri, seguita da Francia e Italia. La Germania inoltre ha prodotto in media il gelato con il prezzo più basso, 1,8 euro al litro. Il prezzo medio dell'Italia si è attestato invece a 2,6 euro al litro. Il gelato più costoso arriva dall'Austria, seguita da Ungheria e Grecia. Sempre nel 2023 l'Europa ha esportato gelato per un valore totale di poco superiore al miliardo di euro. Il primato dell'export verso i paesi extra-UE spetta alla Francia con il 20% complessivo davanti a paesi bassi Germania e Italia. Agricoltura come sinonimo di riscatto e reinserimento sociale. E' questa la filosofia che ha guidato Confagricoltura, JTA Italia e Caritas nella realizzazione di Ripartiamo dalla nostra terra, l'agricoltura sociale. Il progetto, presentato nel corso del meeting di Rimini, permette a 15 detenuti o ex detenuti di partecipare attivamente a tutte le fasi della gestione di un'azienda agricola autosufficiente presso il complesso residenziale Casale del Melagrano di Castro Libero in provincia di Cosenza, Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs e Communication Director di JTA Italia e Sandro Gambuzza, Vicepresidente di Confagricoltura. E' un progetto che integra perfettamente la nostra visione di sostenibilità, sostenibilità ambientale ma anche sociale ed economica. Da anni investiamo nel settore agricolo e quindi garantiamo una sostenibilità economica di lungo periodo con programmabilità, prevedibilità per il mondo agricolo ma allo stesso tempo anche la restituzione e quindi da qui progetti di agricoltura sociale che da lungo tempo facciamo con Confagricoltura. Dal 2015 abbiamo messo in campo un'iniziativa, noi coltiviamo agricoltura sociale che da nove anni sostanzialmente non fa altro che mettere in evidenza tutti i valori che l'agricoltura e il mondo agricolo esprime in primo luogo quello del lavoro e quello sostanzialmente del recupero e valorizzazione dei talenti più fragili. I destinatari dell'iniziativa si occupano di tutte le attività dell'azienda, dalla coltivazione di frutta e verdura all'allevamento di animali per poi dedicarsi alla lavorazione e al confezionamento dei prodotti agroalimentari e infine alla loro commercializzazione. L'intero processo è agevolato dall'aiuto di un'equipa multidisciplinare e prevede l'attivazione di sei tirocini formativi e lavorativi in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Agi Formazione, Paolo Valente, vice direttore di Caritas Italiana. Il meeting è un luogo dove si comunica, dove si trasmettono messaggi. I progetti che mette in piedi Caritas Italiana sono sempre delle opere segno, cioè hanno un messaggio da trasmettere e quindi più piazze abbiamo sulle quali poterne parlare e per noi meglio è anche per il progetto stesso. Alla presentazione dell'iniziativa, aperta dai saluti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Frattin, ha preso parte anche Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia. Per dare risposte ai soggetti più fragili non basta lo Stato, ma ci vuole qualcosa di più brillante che dal basso attraverso la valorizzazione della creatività e del lavoro sia in grado di dare dignità nuova al soggetto che ha sbagliato, al soggetto che si è trovato in condizioni di particolare necessità. Questo è uno degli esempi che dimostra quanto bene può fare alla società e al mondo la creatività italiana. I cambiamenti climatici stanno dettando i tempi della vendemmia, ma secondo le prime stime quest'anno la produzione potrebbe tornare ai livelli dell'annata 2022 con produzioni da 250-300 mila bottiglie. L'anticipo sui tempi della vendemmia è dovuto sicuramente alle alte temperature, sia del periodo primaverile che estivo e soprattutto all'assenza di piogge che però non ha rovinato la qualità del vino. Nonostante il calo della quantità, la vendemmia 2024 ha delle buone premesse, anche se sarà divisa in due da una parte il nord Italia e parte del centro, in particolare Toscana e Lazio, dove le piogge sono state sufficienti, dall'altro il sud, vittima della crisi idrica. Il risultato sarà una qualità complessiva buona ma non eccellente. Al nord è previsto un aumento, seppur contenuto, dei volumi in diverse aree, con l'incognita però dei problemi fitosanitari dovuti alle abbondanti precipitazioni primaverili. Al sud, invece, si stima un calo della produzione come conseguenza della perdurante siccità. Il caldo, in alcuni casi, ha creato ustioni sui grappoli e appassimenti fuori tempo, ma ha creato alle viti meno problemi e ha bloccato la peronospora, un fungo dannoso per i vitigni che nel 2023 ha causato cali di produzione. Seguire una corretta alimentazione, fare attività fisica, dormire bene e ridurre i livelli di stress e di ansia sono le priorità per gli italiani per mantenersi in salute, emerse da una ricerca svolta dall'osservatorio Opinion Leader for Future, il progetto sull'informazione consapevole nato dalla collaborazione tra gruppo Credem e l'alta scuola in media comunicazione e spettacolo dell'Università Cattolica. Più in dettaglio, per il 71% degli italiani una sana alimentazione risulta un aspetto imprescindibile per vivere in salute, percentuale che sale al 78% per le donne e al 79% per gli over 64. Due sono gli accorgimenti più seguiti dagli italiani per un'alimentazione corretta, bere molta acqua e mangiare molta frutta e verdura. Per effettuare scelte in campo alimentare, il 60% del campione afferma di affidarsi a istituzioni sanitarie e medici. Tuttavia, i dati relativi alle fasce di popolazione più giovane evidenziano anche la rilevanza di allenatori personali e dei creatori di contenuti su internet. Questa attenzione all'alimentazione fatica però a trovare riscontro nella pratica. Solo la metà del campione intervistato dichiara di saper distinguere in modo chiaro i prodotti sani e il 28% degli intervistati legge in modo sistematico l'etichetta di ciascun prodotto, percentuale che arriva al 38% per gli over 64. In particolare, gli elementi a cui si presta più attenzione risultano essere la data di scadenza, la provenienza e i valori nutrizionali.